Arriva il Palermo, possiamo dire che forse in tele Palermo hanno avuto un rendimento abbastanza simile in campionato, molto bene in caso, un po' meno in trasferta, come te l'aspetti questa doppia sfida? Io ho massimo rispetto per il Palermo, però sinceramente a me non mi va di parlare degli altri, né di quanto hanno speso per fare la squadra, né di che obiettivi avevano. Sicuramente il Palermo non aveva l'obiettivo di partecipare al campionato, detto ciò io sono contento della mia squadra, sono contento di questo percorso che è iniziato quest'anno dopo una retrocessione. Abbiamo passato tanti momenti belli, ma anche momenti difficili, però questa squadra ha dimostrato di non mollare mai, ha dimostrato di rialzarsi sempre e questo percorso ci ha portato a giocarci una partita molto importante. Con che umore e con che voglia? Sicuramente con la voglia di far bene, di ripetere la gran partita che abbiamo fatto l'altra sera. Stiamo portando entusiasmo, questo ci fa piacere anche aver riportato un bel po' di gente al comunale, quindi siamo pronti, belli carichi e sicuramente faremo una gran partita. Quanta adrenalina ha dato e anche quanto entusiasmo ha dato la vittoria col Foggi? Ci ha dato grande entusiasmo e grande forza per preparare questa partita. Come te lo aspetti questa gara ma in generale questo doppio confronto? Sarà una gara da prendere con le pinze perché sul doppio confronto ci sarà una fase di studio, sicuramente però noi dobbiamo in casa soprattutto partiremo forte e dobbiamo far valere la legge del comunale che fin qui abbiamo sempre fatto bene, quindi dobbiamo giocare su questo e poi al ritorno ci penseremo.